non mi ricordo che mappa è questa è una delle due mappe ibride dove prima prendi il punto e poi porti il carro è la mappa di lucio non mi ricordo Meglio qui Qui ci sta Lo vede poi, poi morì Vai sì 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 sì, bene bene I like it bom 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 Venga non pushate Taranto Se no poi ci scopano E a meno che a Temmini Non piaccia essere scopato da una ragazza Al più sentire No McCree, please don't Non è ancora mezzogiorno Non è ancora mezzogiorno Non è ancora mezzogiorno Beh, però è mezzanotte Sì, da qualche parte È mezzogiorno E poi è mezzogiorno E poi è mezzogiorno Forse non ci ha in China Cazzo mi sono dimenticato di ridere il sinistro Vaffanculo All'alto, all'alto All'alto, all'alto Ok, diva è morto Ok, lo sniper è morto Cazzo, cazzo Ma che cazzo? Ma mi fottete tutte le kit? Ehm... Fa pediculo Dovrebbe esserci... Porca la puttana Un medic kit Loro che parte se... No, ricordo male Ah, devo studiarmi le mappe Eccolo A parte la mappa, figa È arrivata diva arrapatissima E me lo ha buttato in culo All'alto Chi è che abbiamo uno... Un obiettivo? Figa, mi stanno scoppando All'alto in due secoli Ma che cazzo? Dove sono arrivati questi? Aaaaaaah Porco zio mei Mori La loro main non viene congelata Ma io sì Aaaaaah Non ho mirato la testa Che coglione che sono Vabbè vaffanculo Noi no Ho la ulti No, non c'è un cazzo da fare Mi scopano No, non c'è un cazzo da fare No, non c'è un cazzo da fare Mi scopano Perché non mi fa ultare? Eeeeee Eeeeee LOL C'è non mi ha fatto ultare Che schifo BESTIAN Meeee Eeeeeee Ecc Sono morto Ehm, mi sto seguendo Ok Dai davvero Mi fa sick Basta no no mccree 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 no ok ha ucciso mccree senza neanche essere ops io sono me ripeto le viene congelata e io vengo congelato sono andato a suicidarmi io so qui so qui boom boom shakalakala kala in you cancone più senza sensore il mondo ah poi non me la ricordo Sì Volevo ultare ma ne ho scelto top di Comunque era ultimo di meia Tipo il top di si si C'è Eeeh No, no questo dov'è essere 1v1, vivo questo dov'è essere 1v1, grani crit Ah niente Cazzo 5 di vita Cazzo Cazzo Toccami il cazzo bastard La mamma zingera c'ha io e vuoi fare qualcosa Vaffanculo Cazzo vuole fare uno qua con la mamma zingera Ragazzi se uno piccasse basti mi farebbe un favore Aspetta io devo per un tor Sì e schifosi Volevate scoparmi in culo Nessuno mi scopare in culo gratis Dovete pagarmi HALT OOOOH YEAH BIT OOOOH YEAH OOOOH WAT OOO OOOU Non c'è OOO Non c'è mamma mia c'è non gli hanno insegnato manco gli orari che persona di merda mccree come è stato snacterato? DIVA oh no! DIVA oh no! 60 secondi, finito! però un munchio ma su kathem bro a me con quel secondo tipo d'attacco fa croppi danni che roba brutta NO! CHE CAZZO HA FATTO?! però io quando gioco me non faccio danno però d'altro sì PUTTANA! no se perdiamo per la mia torretto che cazzo dov'è oh te la devi scopare te, hai capito? qua solo tu puoi scopare davvero chi scopa gode hai capito? quindi... tu te la devi scopare minchia oh su di me era un problema in un'altra volta qua sono i miei che sborrono meglio che a voi ti basta mi ha rotto il cazzo perchè le miei continuano a stannare ci spariamo insieme però le miei stanno sempre io no le manco inizia a congelarsi raga un baston no cazzo avanzano troppo velocemente se avessimo un fottuto baston hai colo piccare il cazzo lì di cosa lì ma mi racchi la mente non capisci niente ma cri è morto time to raid my APM andalo per cazzo ah ma loro hanno due diva ah via dalle palle com'è che lei vedeva me e io non vedevo lei cazzo di alberi di merda non 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 Questa qua è l'ultima per me D.Va morta E quale delle due? Quella che non ha il meta Ok, non cambia il meta D.Va 4 HP Cazzo Il nostro solo ulti Quella è, come mi ha ucciso? Ah, ma si sono morto da Genji? Ero in carro armato, ora voglio capire come cazzo mi ha ammazzato Ma, com'è che invece non gli ha contato pigliacelo dentro, perchè io ero qua sopra Figa, io ero in modalità carro armato OOOOOO La prima! E' la prima in tutta la mia vita! Oh no, la povera Da che ci sono io? Ciao mamma Yeeey Ehm, per fortuna Che schifo C'era in modalità Ed Ehm Ok, per fortuna La prima aca Ehm D Non C'è